Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di reazione alle vostre migliori giocate su Fortnite La serie più odiata ma copiata di YouTube Italia, incredibile ragazzi Gli sa perché da quando mi sono messo a fare reazioni su Fortnite, tutti si sono messi a farle Ma sarà un caso? Probabile ragazzi, probabile Stiamo oggi con un nuovo episodio Questa settimana ci sono molte clip interessanti Le clip le ho selezionate ragazzi, circa 5 giorni fa Perché mi erano arrivati molti messaggi che molti utenti non riuscivano a mandare l'email Perché si era riempito lo spazio all'interno dell'email Quindi mi ero selezionato le clip 5 giorni fa Ho pulito tutta la mail Quindi adesso potete reinviarmi tutte le clip che volete Ho ribellato lo spazio, ho altri 30 giga liberi pronti per le vostre clip Quindi mi raccomando, seguite sempre i mail in descrizione e mandatemi tutte le vostre clip Prediligo le giocate fighe, però anche fail, epic win, cose divertenti, bug Qualsiasi cosa che vi succede su Fortnite che possa essere messo in compilation Mandatemelo perché io lo selezionerò e ci farò la reazione a questo video Grandioso Tra l'altro ragazzi è una settimana che ho problemi con un dente E quando parlo mi brucia tutta la gengiva E vi giuro che è una cosa che non auguro mai a nessuno Perché poi soprattutto fare video in queste condizioni è veramente Snervante, infatti se notate che deglutisco spesso in questo video è per questo motivo Ma bando alle ciance andiamo immediatamente a vedere la prima clip di questa settimana Che ce la manda Chris02 Vediamo cosa fa Siamo a magazzino muffito a Dusty Depot Sta buildando, siamo su PC? No, sì, siamo su PC No, non è vero, siamo su PS4, ok Vuole mettere la jump ma poverino non ci riesce Non ci riesce, lo stanno sparando in 250 milioni Ha messo la jump ma non lo userà perché la distruggono Invece l'ha utilizzata Ma quanto cazzo è noto in alto con la jump Forse perché va la pedra salterina Va su un team proprio così a cazzo duro Tutti a terra No, tutti a terra Quanti ne ha fatti cadere? Due ne ha fatti cadere, ok Ne rimane sostanzialmente uno E forse ci sarà anche una vittoria reale Probabilmente sì Perché loro sono in due e lì erano in tre Quindi sì, probabilmente ci sarà anche una vittoria reale Poi è stato veramente un kamikaze, raga E build è anche niente, niente male Eccolo qui, boom Bello, mi è piaciuto perché nonostante la pressione Ha pushato tre nemici da solo E con lancia razzi ne ha fatti fuori due Se le avessi fatte fuori tutti e tre Sarebbe stata una gran clip Questa clip ce la manda Flavio Vediamo cosa fa il nostro Flavio Raga, voi avete la trappola nuova Ok, sono in quattro Ok, quindi c'è l'ultimo lì sotto L'ha visto, piazza la nuova trappola E che fa? Porco tu Oddio, oddio Vi informo, anzi vi avviso Oddio Oddio Ok, grazie Flavio che mi stai facendo parlare Ragazzi vi avviso che questa settimana ci saranno un sacco di noscope fighissimi Ma proprio fighi, fighi, fighi Frank23 ci manda questa clip In early game Trova un pompa Ok Qualcuno gli sta starando delle granate Trova un jetpack Ma è molto vecchio questa clip Probabilmente perché il jetpack lo hanno tolto Chissà che fine ha fatto Secondo quelli di Fortnite è stato riposto nell'armadietto Prende due pompa Sono le uniche due armi che ha trovato Poverino Ok Lui pusha col pompa E col jetpack Non gliene frega niente Vadi double pump Uno Due Boom Prima terra GG Siamo su PC ragazzi Qui siamo su PC Intanto gli sto facendo fuori totalmente il team Cioè è rimasto lui e Alvin il pro Praticamente Uno si è disconnesso perché ha risquittato Prova a farsi questo nemico Questi due nemici Boom ragazzi Una bestia Un altro E quanti cazzo sono? Mamma mia Due team Porco due ragazzi Si è fatto due team da solo Ma ne manca qualcuno perché ne ha atterrato uno E gli stiamo sparando Eccolo qua Intanto lì col jetpack va ragazzi Lì col jetpack va Non gliene frega niente Lì continua a volare Ancora Quattro kill Cinque kill Oh un altro Ma what the fuck Oddio Creppala Salvala Salva Cosa cazzo ho appena fatto Qui devi dire un gran grazie Al jetpack che ti ha salvato la vita Senza lui secondo me non ce l'avessi mai fatto Joker Non lo youtuber Ci manda Questa Questa clip Credo Non sia lo youtuber Non lo so Non lo so Comunque ci manda questa clip Double pump Questi sono in set Due kill Tre kill Adesso sono rimasti in sei In sei Ne ha ammazzato uno così Lì uno in volo Lì uno in volo Va di cecchino No L'ha preso in volo Porco ragazzi come avevo detto ci sono un sacco un sacco di clip del genere questa settimana Che mi piacciono un sacco porca pupazza mi piacciono un sacco Ragazzi un altro tent che si chiama Joker Goku Perché vi chiamate tutti i Joker Guardami In teletrasporto Ma che stanno a fa col carrello baggatissimo Ma che stanno facendo raga Così Ce l'ho fatta io T'ho fatto magari io Ma raga ma è andato sotto la mappa Sotto finna No Che cos'è Bisboschetto Ma che cazzo è Io posso guidare qua sotto Ma che significa Ma che c'è in trama Com'è possibile Ma poi tu scusa Joker Goku Tu per caso riuscivi per andare ovunque sulla mappa così Cioè se ti si chiude la safe in quel punto hai vinto Cioè Hai palesemente vinto Mini Carlo Ci manda questa clip Erano un team Era un team Ma sono morti tutti Rimasto solo lui Va di pompa viola e di pompa blu Niente male Ammazza il primo È pieno di gente Builda 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 Bravo Ok È pienissimo di gente ragazzi È pienissimo di gente Knock il secondo Knock il terzo Team fatto Così Così C'era un altro perché lo sento Oddio è salito Madonna ragazzi 15 HP 16 HP Vai di R Vai di R Compa Vai di R Vai di R Vai di R No 4 HP È morto È morto Spendi sto scudino Che male non ti fa Questo figuro lo distruggi No Ok Knockato un altro Knockato un altro Knockato un altro Ma che cazzo Ti manca l'ultimo Ok l'hai visto Madonna ragazzi 15 di scudo E 4 HP 15 di scudo E 4 HP Due team Due team Così Li knockava tutti Cazzo Ragazzi Li shottava tutti Eccola lì Eccoli l'ultimo Dell'ultimo team No Ho failato Ok Porca zozza Ragazzi Cioè si è fatto 7 kill Cioè aveva A fine clip Aveva 9 kill All'inizio 2 Quindi si è fatto 7 kill Paolo it E specifichiamo it Ci manda questa clip Sono rimasti in 3 Lì a 4 kill Sono a loot lake A sponde del saccheggio Per i più italiani Visto che lui si chiama it Italianizziamo del tutto Sta sparando agli alberi Perché probabilmente Ne ha visto uno Ma io non l'ho visto Ma dov'è l'altro ragazzi Non era più per l'idea Probabilmente in quel fortino Lì a sud No non c'è nessuno Mi sa Dove cazzo sta Che si prende una giampa Oh mio dio Ragazzi Non mi ricordavo minimamente Sta clip Pensavo uscisse la testa Da quel fortino Invece no Il nemico si è preso Una jump Una piattaforma Quello che è Forse una jump Perché ha aperto il paracadute L'ho preso in pieno In volo Ve l'ho detto Che stas settimana C'erano tante clip così Peppino Ghost In early game Trova Una pistola Il nemico Sta sparando Però lo sta Graziando A quanto pare No ma Non ci sto credendo Non ci sto credendo Non ci sto credendo Ma voi avete capito Che cazzo è successo Riguardiamola Il nemico Prende l'arma Lui giustamente Non fa niente Si mettono a ballare Adesso Fanno sasso Carta forbici Ha vinto Lui Perché è uscito Il sasso All'altro forbici L'ha dato la pistola E si è fatto ammazzare Quanto cazzo è bello Forte Quando succedono Ste cose Raffaele Calendo Ci manda questa clip Desert Eagle Un nemico in volo Lo ammazza Semplicissima ragazzi Che vuoi che sia Nemico in volo Desert Eagle Morto Ragazzi Io vi sto avvisando Il nick che vi sto per dire È molto strano Queste clip Ce la manda Il re corrotto Sono all'andere tali Ne ha visti un paio Dentro quella casa E lancia le stiche Che ne hai 1, 2, 3 Tutte e 3 Per essere sicuro Cioè ragazzi Ma l'avete visto Che cosa ha fatto Ne ha ammazzati 3 Ammazza il primo Ammazza il secondo E ammazza il terzo C'è uno Colonghi che era data Ma what the fuck Ma parla in solo Ma come ha fatto in solo Ad ammazzarne 3 Nello stesso punto Vabbò GG comunque Salvo Ci manda Questa clip Scaracca oro Pompa oro La safe si è chiusa In questo posto Che vi giuro Io odio Perché c'è quella musica Di merda Della discoteca Ragazzi Vi giuro La cosa più odiosa Di questo mondo Spero al nemico Che lo fa Cadere brutalmente E Ragazzi Io pensavo Che si cadessero Ma che non facesse Vittoria reale Ragazzi Vincere così Vi giuro Che è la cosa Più soddisfacente Del mondo Li vedi lì Tac 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 Spari Morti tutti e due Ma che burro Ragazzi Teddy Bear Ci manda Questa clip Cosa stara facendo Si sta buildando Vedo un nemico lì Farà un fast peek No Sono in sette Lui ha sette kill Che sta a fare Che sta facendo Lo stanno sparando Anche dall'alto Esatto Da Ovet Porco due Ragazzi Mi piace la reaction Oddio Che tutti fai di parte L'oddio easy Cioè sentite qua Ammazza praticamente Questo Qui guardate Qui c'è un nemico Che è Assaltato Al tempo stesso Che lui ha sparato E quindi l'ha preso Per culo totale Ragazzi Sti oddio Mi casano tantissimo E andiamo con L'ultima clip Che ce la manda V-Boom ragazzi V-Boom ci manda Questa clip Vediamo cosa fa Sono a sponde del saccheggio Sono rimasti in tre Lui ha otto kill Quindi è uno Versus due Perché siamo in una duo Ha un bel armamentario Tra l'altro C'ha ancora Il pompa viola Quindi questa clip È moolto vecchia Ma vediamola comunque Vediamo cosa succede Hai capito Si sta Ok Si sta attrappolando tutto Giustamente Perché lui è in safe Si mette le scale Probabilmente li ha visti Lo stanno jumpando Attenzione Oh mio di ragazzi Non ci sto credendo Non ci sto credendo Questo è senza dubbio La clip più bella Di tutta la settimana Gli amici cadono sul suo fortino Lo apre Boom Cadono sui due morti Dalle trappole Tanta roba questa clip Tanta tanta roba Complimenti V-Boom Quindi ragazzi Io direi che per questo video Posso essere tutti Spero che come sempre Il video vi sia piaciuto Se così fosse Fatemelo sapere Con un bel pollicione In sotto a questo video Vi ricordo di mandarmi sempre Le clip E le mail Che trovate in descrizione Ve le metto pure qui In sovraimpressione Fortnight Jampitech Jampitech Grazie a tutti